Per far fronte all'emergenza a Granchio Blu serve la nomina di un commissario straordinario per avviare campagne intensive di cattura, incentivando i pescatori, ripristinando gli habitat lagunari nel delta del Po e riavviando le attività di allevamento con una campagna di semina. È la richiesta avanzata dal presidente della Coldiretti in una lettera al ministro dell'Agricoltura. Nonostante gli importanti interventi intrapresi dal ministero, si legge nella lettera, la situazione continua ad estare forte preoccupazione e malessere tra gli operatori del settore. Una situazione che tiene in apprensione solo nel delta del Po oltre 2.000 lavoratori che si trovano in cassa integrazione e con una difficoltà per gli addetti delle ditte individuali che non possono beneficiarne. Purtroppo non si parla più solo di ingenti danni, ma del quasi totale azzeramento della biodiversità marina locale, un patrimonio identitario inestimabile. L'impatto si riscontra nell'alto adriatico interessando le regioni Friuli-Venezia-Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il centro e il sud adriatico sono al momento solo lambiti dal problema. Le aree di produzione ittica maggiormente danneggiate, con produzioni ridotte fino all'80%, sono quelle delle lagune, delle secche, della fascia costiera, dove sono presenti i più grandi allevamenti di molluschi bivalvi d'Europa.